Bentornati su I'm Alive e io sono Axios00, riprendiamo da dove ce l'avamo lasciati Siamo nelle fogne e stiamo tornando verso casa, o almeno questo è quello che ci aveva detto l'altra volta il nostro amicone qui Qui in mezzo insanguinato, a caso tra l'altro, perché questo è sangue a caso Messo a caso e non capivo cos'è, un fuoco, c'è un fuoco C'è Gen No 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 no, calma Calma Relax No 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 no, non voglio Si C'è modo di passare lì qua, perché non lo voglio fare incazzare Vabbè, vado per i fatti i miei No no, vado per i fatti i miei, io mi faccio i cazzi miei Ecco, appunto Stai qua, tranquillo No, no, no Che è sto Sgocciolio C'è una mappa? C'è una mappa Sì, c'era anche scritto prima quando ho aperto l'inventare, è vero Ok Quindi devo andare sulla destra Ok Ma non c'è vero andare sulla destra Un telo non distrutto come gli altri Incredibile Carrelli della spesa ovunque Mi farebbe piacere che è un pupazzo Un orso Con un cuore, un orso con un cuore Guardate, bello Bello, bello si fa per dire Comunque Procediamo No, no, che fermati Non rompere le sca... Wow Sì, avevo già ipotizzato fosse cenere in teoria Ma si può scendere lì, no? E quindi? Devo spaccare il culo a... Miss, miss pistola, miss pistola ovviamente, non miss, miss pistola No, abbassati No, ok, vabbè Ho una pistola anch'io, guarda Oh Dio No, 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 non volevo Non volevo Riprova dall'ultimo checkpoint Oh mio Dio Eh, vabbè Eh, questa è andata così Non volevo farvi incazzare Eh, no, non ti voglio Non hai proiettivo Non è possibile cercare di evitare i guai Eh, sì Io avevo cercato di evitare i guai Ma, eh Non c'è un posto per continuare di qua Fottutissimi bastardi Di qui, quindi? Sì Ok Sono stupido, lo so È che era bello farlo incazzare Sinceramente Oh, ritorniamo su Meno male Oddio Però si stava Chi sono quelli là? C'è gente Tre persone Che stanno cercando di uccidere qualcuno Presumo Fare qualcos'altro Molto brutto Oh, ma tu guarda Un cano della spazzatura Ma che caso Non l'avrei mai detto In questo gioco Non ci sono Camion della spazzatura E non ci sono Non ci sono sacchi A sto giro Eccoli qua i sacchi Eccoli qua i sacchi Con la poltrona accanto Per ammirare i sacchi La poltrona con un palo Vabbè Eh, sì Che film si andavano a vedere? Dirty ghosts Make dirty houses Non ci Non fa una piega Pomodoro Cioccolato E sangue Pur Naughty ghosts Bene Ok E proseguiamo E meglio Scusate Oggi Ho la voce un po' Così Spero di non Starmi Ammalando Questo invece Si è ammalato Di brutto C'è anche una valigia Mi sa che l'hanno derubato Quegli altri A occhio C'è un altro Scuola Sì lo so Devo andare Della parte opposta Di quella Di cui sto andando Lo so Non rompete le scatole Newspapers Che c'è qui I love Non so chi Persone scomparse Persone scomparse Persone scomparse Persone scomparse Ma oh Guarda lì Una persona scomparsa Non crede Un'altra poltrona Identica A quella di prima Scusa Non volevo Non volevo Non volevo Bene Mappa aggiornata Ma si può passare Anche di là In qualche modo Oppure Non Non si Ma che cavolo è Sta mappa aggiornata Continua Ah Ah mi dice Non ci posso passare Che quindi Devo passare Da quel vicolino Laterale Ok Perfetto Ma prendere Una di queste Jeep Guarda chi c'è Guarda chi c'è Qui Chi si vede Città più pulita Della storia Con sacchi Della spazzatura Ovunque però Sacchi ovunque Proprio Occhio C'è da montare Qui Hai trovato Un tentativo Perché nelle città Si trovano tentativi Cioè chi è che Non trova tentativi Andando a giro Per la strada Bene Sì Sono curioso di vedere Oggi se vado a giro Se trovo un tentativo Proprio così No Dovrei andare qua Io Ma qui c'è un Oh Un bel bucone Tra l'altro Sembrava un fantasma Vi giuro Ma vi giuro Ma ci Ce la faccio Saltare di là Io Cioè Posso scendere Non posso saltare Non posso scendere Presumo che dovrò salire In qualche modo Anche se Non ho idea di Quale modo Potrei usare Per salire Francamente Ok ci metteremo Una vita A finire Questo gioco Presumo Anche due o tre vite Perché Non riesco a Qui non salta No Di Qua Ce la fai Ad andarci Salvo Buttati giù Che è bello No Ok Ma se io Mi riaggrappo Tipo No Non mi riaggrappo Bene Ok Help Qua si può aprire Ok Bello Bello però Fare questo Sì sì Vai giù Macete Macete Hai trovato Un macete Vicino al nemico Premi io Per attaccare Con il macete Ma se io Lo uso qui Ecco Ok Ok Mi sono finito Un dito Per aprirlo Bene Ok 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 Hai raccolto Un proiettile Presto giù due volte Prendi sparati Proiettili sono rari Premi E per minacciare Un nemico Bene E per buttare A cera Un nemico A No Fammi Mi passa Ma sto uccidendo Quello Fammelo ammazzare Di provare L'ultimo checkpoint Questa sarà una cosa Molto lunga Sì ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ma se io Passati Per i fatti Miei No eh Ecco Ora ho usato Questo Ma ehm Allora mi era stato detto Che potevo premere Quello Per seccarlo Un po' cagare Questo sistema Di controllo Combattimento Sarò io Scarso Non lo metto In dubbio Certamente Ma intanto Ho finito L'unico Proiettile Che avevo Perché non ne ho più Proiettili Giusto Certo che no Bene Comunque Questo sistema Di combattimento Sinceramente Mi fa un po' Schi Tavolini Tavolini Cos'è Un camion Della spazzatura Ribaltato No Ok Possiamo andare avanti Ehm Qui no Che poi Mi piacerebbe sapere Come hanno fatto Vabbè A sfondare Spazzatura Trovato un antidolorifico Grazie Quindi per Mi ridà un po' Di energia Ma prendiamolo Va Si ho fatto una cagata Me lo immagino Però lasciamo Lasciamo stare Ma posso No Ma se io Salgo No Neanche qui No Bene Quindi Credo di aver capito Che ci sono Dove devo andare Quelle specie Di Cos C'è una specie Di fumo Nebbioso Credo Mezzi militari Comunque Qui Spesso Spesso Devo dire Mappa giornata Questo cos'è Trovato un kit Pronto soccorso Interessante La mappa giornata Ah ok Basta andare dritto Basta andare dritto Ultime parole famose Ogni tanto si Incastra anche la telecamera Devo dire Bandiera americana Che sventola Sempre Come nei film Eh sì Certo E mi pareva strano Che non ci fosse Verso andare dritti No no Non ti voglio fare niente Vai Salvato una vittima Aiutare le vittime E ho ricompostato Con un tetrafeo addizionale Questo aumenterà Anche il tuo punteggio finale Controlla la pagina statistica Per vedere il tuo punteggio Ma ora no È proprio là Qui 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 Quindi non ti sono In Havinton Sì Nessun Eh no You know Shortly after It happened The first thing That we had to deal With Were the earthquakes They kept happening Day after day Most people Ended up At makeshift Emergency centers Like the Havinton Stadium And we were Protected From collapsing Buildings But There was so much Dust in the air So we had to Find another solution It's been a year now But we still have Aftershocks E prima o poi Smetterà di tremare Non vi preoccupate Prima o poi Smetterà È di niente Non è che mi date Anche qualcosa Già che ci siamo No Proiettile Niente Bene Ottimo Fa piacere sapere Che i tizi armati Potrebbero essere Ancora in giro E che voi Non mi avete dato Un solo proiettile Bastard Fa male Anche a me Di qua non ci si può andare Fammelo far segnare La mappa No Non me lo segna La mappa Vale Ci ho provato Chi? No 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 Easy 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 Va tutto bene Tutto a posto Ecco Ok Ok Dovrei andare di qua Ma presumo Ah si c'è modo Ok Bene Nostro amico qui Ha doti equilibristiche degne Ah che schifo Dotti equilibristiche degne Proprio di un Di un circense Due antidolorifici Uno prendiamocelo Mi prenderei anche il secondo Però dai Aspettiamo un po' Oh Dovremmo esserci A casa Ok Neanch'io Sinceramente Oh ma è bellino Carino Posso montarci Vi prego Ma no Era carino Vabbè Home sweet home Home sweet home Mary Julie Are you there? There's no one here Ho dei dubbi Che ci sia qualcuno qui Non mi sembra Il luogo dove ci Oddio Forse No ma neanche Per sbaglio Mobili di dubbio gusto Mi spiace Per chiunque di voi Ce li abbia Ma E leggiamo We have to go I know you'll come back here We'll try to stay in Haventon But we'll go wherever safest With Mary I can't take any risk Eh vabbè We love you Not a moment goes by That we're not thinking about you Try to find us We'll be waiting for you Julie and Mary I am alive Quindi questo era il prologo Io sono quasi morto No sono morto una volta Del prologo Bene Ottimo Questo dovrebbe essere la telecamera Chi ha ritrovato quella ragazza Quindi noi I'm so sorry That you've had to go Through all this without me Earthquakes Dust storms And what came next The food shortage Hunger Thirst Zombie Si sentite i rumori molesti Non è colpa me Ah Tremoto Bene Il prossimo obiettivo qual è Nessun obiettivo disponibile Non lo so Proviamo ad andare su Poi casomai ci salutiamo E ci vediamo La prossima volta Perché ora Purtroppo non ho preso il tempo Cioè da quant'è che sto registrando E Perché si Ambiente occlusion Vabbè Il coniglio Prendilo E' un rabbit Questa è una citazione Ubisoft In maniera estrema Bene Ok Perfetto Ehm Si Queste citazioni Gli altri giochi Cesso non c'è niente Bene Direi che possiamo anche uscire di qua No aspetta Che c'è qua Della Macedonia Ho trovato della Macedonia Qualcuno di voi vuole Macedonia Che poi tra l'altro viene anche fame A pensare a queste cose Qui c'è niente Per fortuna Nessuno in terra morto Non voglio sapere Cosa erano tutte quelle riviste Perché Proprio non lo voglio sapere Mami Mami Dove sei? E' dove sei? Che ne so Ehm Vabbè Proviamo a farci anche questo E vediamo un po' Chi è Ma è qui dentro? No Sono io cecato Scusate Dov'è? E' là? Quella? Tra i carrelli? Mamma No No Segui Mary E' che c'è qualcosa Lei ha girato di Mary C'erano sacchetti della spazzatura Ho visto Mamma mia Mamma mia Di dove è passata? Ah Ormai Seguiamo Mary E poi Ci salutiamo Credo No Non so quanto dura questo video Purtroppo Accidenti a me Ehm Di qua nel mezzo forse Si Ok Mary it's me Ero io Ero io Perché se casco Qui sotto Ero io Un tempo Ero io Mary dove diamine E sei andata Che non ti ho visto Accidenti A te Dubito fortemente Che quella Sia la tua O magari mi sbaglia Tanto Giornali ovunque Allora Visto che siamo Allora in corsa Il sistema di Combattimento Come ho già detto Prima di questo gioco Non mi piace E sinceramente Non mi piace Neanche quello di controllo Devo essere sincero Ehm Graficamente Non è male Cioè No Veramente no Fa abbastanza pena No Non fa pena Dai graficamente Però Non è più Facciare la tua Arma Io l'ho già Tirata fuori Io non ho fatto Niente Ehm Bene Riproviamo Nell'ultimo Checkpoint Vediamo un po' Cosa possiamo Fare qui Allora L'icona Ti mostra Quali Brissaglio Stai mirando Premi Eppi Faccio La pistola Ok Stavolta Stavolta Siamo stati Wow Delle belve Se sentite voce In sottofondo Non è colpa mia Cosa è Cosa è Cosa è Cosa è Cosa è Cosa è Ho Ho una Dottoria Questa è Questa è Questa è La stessa Questa è Non mi so bene il titolo ora. Ehm... E andiamo a sto centro commerciale a fare due acquisti. Ah, ma la usiamo come zaino? Bene, la usiamo come zaino, ok. Comunque, arrivati a questo punto, spero che abbia salvato sinceramente. Ci salutiamo qui, con questo zaino. Quanto direi, per oggi abbiamo registrato abbastanza, anche se spero di non aver sforato troppo sinceramente con la mia tempistica. Al prossimo episodio di I Am Alive, qui è il vostro Axios 00 che vi parla. E alla prossima, ciao!